No, non lo butta, era una forma a te, però fa bella luce, sempre guardate, va a buttare, lui vede solo giallo, fbl, lui vede la figa e l'oro, basta, facciamo un passo per volta, siamo ancora ignoranti con i corindoni, mettili in video che lo facciamo vedere, che cosa? Il corindone dov'è? Ti ha cambiato il flusso dell'acqua, Cristian, se ti cade qui non lo trovi più, bagnalo, è più difficile se cade una sua tasca e non la troviamo più, che carino, bello! Grazie per la visione! Grazie a tutti!